buongiorno a tutti benvenuti alla sala stampa del centro sportivo gb fabri spal conferenza pre gara di spal cremonese trentottesima giornata di serie b kt 2020 2021 prima delle domande al nostro tecnico massimo rastelli gli indisponibili che nell'occasione sarà solamente valoti iniziamo il giro delle domande da alberto benazzi radio dolce vita buongiorno prego buongiorno buongiorno a tutti buongiorno mister la prima domanda è qual è il clima in casa spal prima di questa partita dove in fin dei conti la spa si gioca un intero campionato credo ci sia il clima giusto la consapevolezza di quello che domani andiamo a giocarci sapendo di affrontare un avversario di grande di grandissima qualità è normale che la vittoria di reggio riportato un minimo di fiducia all'interno del gruppo quanto è importante l'approccio psicologico prima di una partita che dovete assolutamente vincere e quali sono gli aspetti su cui avete lavorato con maggiore attenzione in questo poco tempo prima di affrontare al meglio la gara di domani in una gara di calcio l'ho sempre detto l'aspetto psicologico è fondamentale e determinante a maggior ragione in un'ultima gara dove naturalmente ci giochiamo tantissimo dove poi devi anche aspettare insomma quello che succede da altre parti quello che dobbiamo fare noi naturalmente pensare a noi stessi a quello che è il nostro obiettivo e cercare insomma con tutte le nostre forze di raggiungerlo all'interno dei 95 minuti grazie mauro malagutti il resto del carlino buongiorno prego buongiorno rastebi volevo chiedere se ti racconta un attimo la questione di beliscia cioè se questa volta tocca a lui di nuovo oppure l'ha visto un pochettino giù e preferisce continuare con demba no no assolutamente io ho detto che era un normale avvicendamento dovuto al fatto che comunque abbiamo fatto e dopo con domani saranno quattro gare in dieci giorni e per me il portiere comunque un giocatore come come gli altri se reputo che sia il caso di dargli un turno di riposo per farlo un attimino rifiatare ricaricare le batterie soprattutto per il portiere più dal punto di vista mentale che fisico lo faccio quindi demba ha fatto quello che doveva fare al reggio ha dato sicurezza dato grande tranquillità tutta la squadra così come domani rientrerà berisce farà quello che ha sempre fatto il portiere portiere importante quindi è stato solo una partita dove gli ho permesso naturalmente di rifiatare un attimo e domani è pronto a riprendere la posizione tra i pali ecco l'altra cosa che vorrei chiedere rimane sempre legata a questo poi colleghi senza altro chiederanno della partita lei si è preso un rischio lo sa perché metti che demba che non giocava da tempo avesse avuto vuol dire che l'aveva visto anche particolarmente bene che comunque per lei questo discorso del turnover riguarda veramente tutti i giocatori come si è visto anche con burge con altri ma guarda il mio ruolo il mio mestiere è quello di prendere decisioni e assumermi totalmente la responsabilità io vedo giocatori tutti i giorni naturalmente i portieri hanno un loro preparatore con cui mi confronto quotidianamente al di là che poi i giocatori poi li vedo io quando naturalmente stanno con me e e poi naturalmente essere coerente con quello che dico la squadra dove tutti sono importanti quando li vedo che mi possono dare qualcosa in più li butto dentro e credo che queste rotazioni soprattutto in questo finale dove abbiamo giocato tantissime partite sia stato importante grazie alessandro sovrani teresense radio international buongiorno prego buongiorno a tutti buongiorno mister quali sono le condizioni i giocatori ultimamente rimasti un po in disparte nello lo stesso sensio saranno potrebbero essere in grado di far parte dell'undici iniziale poi considerando le diffide uno dei giocatori a rischio e coli potrebbe operare certe scelte anche valutando questi rischi di perdere poi i giocatori per il play off allora i ragazzi sanno tutti bene quindi tutti sono nelle condizioni di poter scendere dal primo minuto domani è una partita da dentro fuori quindi non c'è da far calcoli quindi gioca quella che reputo inizialmente la miglior formazione che posso mettere naturalmente anche dal punto di vista della strategia conservandomi quei quei calciatori che so che mi possono cambiare la partita in corso quindi assolutamente non sto a guardare chi è diffidato cosa si aspetta in particolar modo da Ascoli e Monza che sono le due squadre sulle quali la SPAL confida domani e cosa si aspetta anche dalla Cremonese con che spirito le avversarie dirette della SPAL e del Chievo e del Brescia scenderanno in campo guarda fortunatamente negli ultimi penso 15 anni nel momento in cui sono stati applicati all'interno della serie B play off e play out i campionati si sono svolti sempre fino alla fine con grandissima incertezza tutte le squadre hanno onorato gli impegni e così sarà domani quindi noi assolutamente non dobbiamo pensare ad una Cremonese sottomessa che venga qui a fare una passeggiata anzi troveremo sicuramente una squadra serena tranquilla che non ha niente da chiedere al campionato ma proprio per questo sarà ancora più pericolosa e più insidiosa perché al di là che ripeto non ha particolari obiettivi ma perché è un organico importante un organico di grande qualità ha fatto un girone di ritorno straordinario un allenatore molto bravo molto preparato e sicuramente col suo avvento la Cremonese ha avuto un passo diciamo da play off quindi noi dobbiamo pensare a noi poi dopo vedremo quello che succederà da altre parti ma non dobbiamo farci distrarre assolutamente pensare che domani per noi è una gara fondamentale ma nello stesso tempo molto molto difficile Davide Sartin tutto mercato web buongiorno prego buongiorno a tutti buongiorno mister in questi due giorni le chiedo se ha avuto modo di parlare con il presidente con la dirigenza in generale e se sì vi chiedo che cosa vi siete detti e quanto sono altre le aspettative nei vostri confronti No no assolutamente ho sentito solo ieri il presidente per fargli gli auguri di buon compleanno e basta quindi tutti noi sappiamo quello che dobbiamo fare e qual è il nostro obiettivo credo che questa è la cosa che in questo momento ci preme di più poi ci sarà modo poi di confrontarci a bocce ferme Ecco al Nilton in tutte le difficoltà due mesi fa quando è arrivato sulla panchina della Spal si sarebbe mai aspettato di giocarsi i playoff un posto nei playoff così all'ultima giornata ma sapevo le difficoltà che aveva la squadra naturalmente quando sono arrivato io soprattutto sotto l'aspetto psicologico abbiamo fatto un grande lavoro sotto questo aspetto naturalmente non mi aspettavo di perdere giocatori importantissimi come Vicari che praticamente non l'ho mai avuto se non 80 minuti con la partita col Cittadella e soprattutto nel momento topico nel momento migliore nostro Valotti e Viviani in un momento dove la squadra stava facendo una grande crescita e soprattutto stavamo recuperando dal punto di vista fisico due attaccanti un po' più strutturati che venivano da due mesi di infortuni e quindi le difficoltà si sono accentuate è perso degli uomini importanti e quelli che avevano un po' recuperato non erano in una condizione accettabile tutte queste cose qua purtroppo nel momento più importante della stagione l'abbiamo pagato a caro prezzo con le tre sconfitte consecutive e quindi la vittoria di venerdì a Reggio ha riaperto uno spiraio e domani cerchiamo di giocarcele tutte le nostre chance Alessio Duatti, la nuova Ferrara, buongiorno, prego Buongiorno a tutti, buongiorno mister le chiedo, il ritorno alla difesa 3 delle ultime partite dunque presumibilmente visto che si è ben comportata sarà di proposta anche domani è stata per ridare quelle certezze iniziali alla squadra nel senso quando era arrivato nelle prime partite contro il Cittadella in particolare anche se sappiamo che a Lecce con la difesa 4 si era vinta una grande partita è stato questo il senso? No, diciamo che la gara di Lecce è dovuta anche naturalmente alle assenze in difesa mi avevano naturalmente spinto e optato per un cambio di sistema di gioco quella prestazione con gli interpreti giusti che avevamo in quel momento mi ha portato naturalmente dopo quella prestazione e quella vittoria alla riconferma del sistema anche contro l'Ascoli è normale che poi nel secondo tempo perdendo Valotti che naturalmente era un po' anche il motivo per cui volevo metterle nelle migliori condizioni di rendere per quelle che sono le sue caratteristiche è normale che poi perdendo lui ho cercato di portare avanti un certo tipo di discorso che a Brescia non ha pagato e quindi di conseguenza persistendo la mancanza di un giocatore con le sue caratteristiche il trequartista avrei dovuto far farlo a qualcuno che naturalmente non è proprio adattissimo per quel ruolo e quindi era giusto ridare un po' di certezze alla squadra soprattutto in virtù delle difficoltà che comunque al di là del sistema di gioco avevamo nell'andare a far gol andare a creare e quindi essere pericolosi e quindi di conseguenza uno cerca di essere comunque un po' compatto di avere un po' più di equilibrio e nell'arco dei 95 minuti andare a cercarsi poi quegli episodi per vincere le gare Mister domani naturalmente saranno importanti anche i risultati dagli altri campi in questo senso la sua direttiva è quella di mantenere isolata e ovattata la squadra durante i 90 minuti o in caso di notizie in particolar modo positive potrebbe esserci la fuga di queste per caricare ulteriormente la SPAL nella sua prestazione? Noi non sappiamo quello che dobbiamo fare non possiamo distrarci e pensare ad altre cose noi dobbiamo avere un unico obiettivo la testa nel campo, sul campo, dentro la partita dal primo pallone fino all'ultimo non dobbiamo pensare ad altro poi quando l'albitro fischierà quando mi auguro faremo quello che dobbiamo fare vedremo quello che è successo da altre parti Avete altre domande per il Mister? Malaguti prego Per una veloce, quanto ci crede Mister, quanto ci crede nella vittoria della SPAL che si fermi una delle avversarie? Ma tantissimo guai a non crederci non potrei fare questo mestiere io trasmetto solo ed esclusivamente fiducia, positività forza perché credo in tutti gli uomini che ho a disposizione ripeto con le tante difficoltà che questo gruppo ha dovuto affrontare in questa stagione sia prima del mio arrivo che nel momento in cui sono arrivato io ma noi dobbiamo sempre pensare positivi non possiamo assolutamente avere un pensiero diverso da questo La domanda non era solo sulla vostra vittoria ma anche sui risultati dagli altri campi Ma ti ripeto come la Cremonese verrà a fare la propria partita qui a Ferrara sono sicuro che anche le altre onoreranno al meglio il campionato ripeto da quando sono stati messi i playoff e i playout in questa categoria fortunatamente non ci sono più partite scontate tutti si giocano le loro gare al meglio delle loro possibilità è normale che noi domani le nostre motivazioni nei 95 minuti dovremmo essere bravi a farle venire fuori grazie a tutti